il primo trafeo della stagione 2021 2022 poi volarsi calcio e il pallone in rete il gol di polis la sblocca marchetti 1 a 0 pallone buono, ancora la bella parata di Jeremia pallone scaraventato in l'aria all'uscita di Jeremia pallone resta lì buono e il cucchiaio è il gol l'1 a 1 di Real Areses la palla resta in campo la chance per Real Areses con Dasti che controlla il team ribattuto la chance e il gol di polis che torna in vantaggio il gol del numero 10 Marco Grossetti stavolta non c'è fuori gioco la chance la palla resta in pallone dentro che errore gol divorato Marco Grossetti l'autore del 2 a 1 apre per Cambiaghi che incrocia il palla che sfiora il palo con il croce diventa un tiro e il pallone in rete 2 a 2 un gol incredibile poi trova il gol pazzesco Real Areses Real Areses che affonda poi il tiro piattone scappa la parata al portiere arriva il 4 a 2 il gol è del numero 16 Ferrai arriva il triplice fischio e dunque Real Areses conquista la Champions Cup calcio a udici 2021-2022 Passats Sales Ass Siamo tutti Ass Spur la